ciao a tutti io sono gabry costa ascoltatemi in questo crash bandicoot 2 adesso dobbiamo fare l'ottavo livello capite siamo su questo cucciolo di orso polare siamo su questo orsetto polare che si chiama polar e capite cosa dobbiamo fare noi dobbiamo rompere 45 casse per vincere la gemma bianca e prendere il cristallo cerchiamo di evitare questi totem e poi facciamo attenzione anche alle orche che escono fuori dall'acqua e poi siamo attenti alle fove e attenzione alle casse di tnt perché esplodono da sole dopo tre secondi occhi alle nitro cerchiamo di fare tutto giusto ricordatevi che per correre velocemente premete il tasto cerchio quando siete sopra polar io non avevo mai visto crash sopra polar l'orsetto polare direi che il video si può concludere ragazzi quando toccate questa cassa metallica verde o punto esclamativo fate esplodere le nitro bene abbiamo preso il cristallo e la gemma bianca di est ottavo livello di crash bandicoot 2 visto che insieme alla trilogia insane trilogy se il video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale e condividetelo parola di gabriosta facendo un video su crash non posso fare altro che salutare i mitici fratelli li prendi